Salve! Buongiorno, siamo tornati a fare video. Wow, siamo tornati a fare video. C'è il telone nero perché mi serviva per delle altre cose e non volevo stare lì a toglierlo e metterlo, quindi a questo punto ho cercato di stenderlo alla buona e usarlo come sfondo. Qui abbiamo il mio vecchio pc. Il mio vecchio pc negli anni è stato un po' modificato, qua ho inventato qualche pezzo e tutto un po'. Ho voluto approfittare del fatto che adesso era un po' di tempo che non lo pulivo per fare un video per chi... Ok, chiedo scusa, corriere. Allora, dicevamo, volevo registrare questo video per chi magari fosse più alle prime armi, fosse magari al primo pc e non conoscesse perfettamente il mondo. Anch'io ancora tuttora non lo conosco perfettamente, ma almeno un minimo posso dare qualche consiglio. Intanto inizio a smontarlo mentre parlo e ho il fiatone perché sono corso dietro al corriere. Volevo fare un videino in cui spiegavo, illustravo, in questo caso un video su alcune cose che si possono fare al proprio computer, soprattutto sul pc fisso. Magari un giorno ne farò anche un video dedicato ai portatili. Su cosa si può fare per mantenere il nostro computer al meglio del possibile, con delle manutenzioni annuali, almeno io li ho di solito sempre fatte una volta all'anno o poco meno. Ad esempio, cambiare la pasta termica al processore l'ho sempre fatto ogni 10-11 mesi, un anno quando andavo per le lunghe. Se avete la scheda video fuori garanzia, magari cambiali la pasta termica anche alla scheda video. E ovviamente una pulita generale dell'interno del case, con le varie bombolette spray, compressori e tutto un po'. Qua ad esempio c'è il mio filtro dell'aria che è un po' l'arcino perché è quello superiore, poco male. Eventualmente degli upgrade che si possono fare se avete magari un pc preassemblato che magari potrebbero servirvi. Ad esempio, questo computer qua glielo acquistai ed era un preassemblato e aveva il dissipatore Intel Stock. Un upgrade che gli feci un annetto e mezzo fa fu mettergli un dissipatore a liquido Only One da 120 della Cooler Master, pagato 50€ su Amazon, vi lascio il link in descrizione. E che mi ha svoltato le cose. Mi pento di non averlo fatto prima perché probabilmente mi avrebbe permesso di far durare comunque un po' di più questo computer. Anche magari se avete le RAM stock, cioè nude senza nessuna plate, magari giusto un po' per estetica e un po' per guadagnare qualche grado, soprattutto se avete un case non ben areato, comprargli delle plate che io avevo pagato, delle plate mi sembra 15€. Erano anche RGB, va bene, si collegavano a scheda madre, molto carine, più di 500 FPS, però di per sé mi hanno fatto guadagnare, mi sembra, un 2-3 gradi ed erano comunque esteticamente un po' più belline. Tanto io mi accingio a smontare il computer, questa è la mia scheda video. Quindi io oggi vi farò vedere come soprattutto magari cambiare la pasta termica a scheda video e magari fateci caso, se avete una scheda video che è già un po' più complessa come sistema di dissipazione, fateci caso se quando lo smontate, in caso, ha o non ha i pad termici. Perché anche nelle schede video di fascia più bassa magari, in questo caso qua ho una RX 570 Sapphire, potrebbe non esserci i pad termici magari sulle VRAM o su altre componenti che possono tornare utili. E anche se non ci sono potete metterli, perché non è detto che se non c'è non si può mettere. Se per esempio su quelle di fascia magari un po' più bassa, magari non le top di gamma della generazione, non si trovano. O magari si trovano, ma sono comunque anche essi da cambiare. Soprattutto di solito il periodo di garanzia è di solito di due anni. Dopo due anni farebbe comodo sia cambiare i pad termici che cambiare la pasta alla scheda video. Quindi adesso vedremo anche questa. Come pasta termica utilizzerò la stessa che ho utilizzato per il mio PC nuovo, ovvero la NTH2 di Noctua, che è una delle migliori da quanto ho letto. Mi sono informato bene perché anche lì una pasta termica non è uguale all'altra, per quanto possa sembrare. Quindi idem per i pad, perché si parla comunque sempre di escursioni termiche diverse, conduzione di temperatura, ai vostri waterblock, ai vostri dissipatori ad aria. Quindi può fare anche la differenza. Questa qua ho letto che è una delle migliori, molti ne parlano bene. E effettivamente ho visto anche, testandolo sul mio computer, soprattutto sulla scheda video, col combo del waterblock, la scheda video sta a temperature ottime. Un altro consiglio che magari posso darvi, se dovete downloadare, dovete scaricare cose, roba del genere, e magari avete un PC già un po' più vecchiato, con una scheda di rete integrata alla scheda madre, non super veloce. Magari la vostra connessione è più veloce. Una scheda di rete esterna PCI come questa qua. L'ho pagata 10€ fa fino a 300MB, che per me va abbastanza bene. Dovrei metterne una da 1GB, non per via della mia connessione, ma per il collegamento nel mio server. Adesso però non sto più a farlo, perché avendo il PC nuovo con una Z590, la scheda di rete integrata alla scheda madre mi arriva benissimo a 2.5GB. E quindi per collegarmi al mio server e fare il passaggio dei dati va già più che bene. In questo caso, prima vado a pulire il case con una bomboletta di aria compressa a posto per i componenti elettronici. Mi raccomando, soprattutto ventole e la scheda madre, cercate di spolverarle il più possibile. Possibilmente usate le bombolette di aria compressa per i componenti elettronici, perché sono prive di umidità e prive di liquidi. Potete benissimo usare anche un vostro compressore di casa, quello che si usa per gonfiare la bici. Assicuratevi solo che al suo interno non ci sia del liquido, trattoci per qualsiasi motivo, perché avete il rischio di andare a danneggiare i componenti interni. In questo caso io uso direttamente la bomboletta, si può comprare tra Amazon ferramente varie. Io l'ho comprata in una ferramenta per industrie che fornisce anche questi materiali, perché giustamente i macchinari sono anche controllati da un computer. Quindi vanno puliti anche quelli. In questo caso utilizzerò quello, ma se cercate bombolette di aria compressa troverete quelle specifiche anche su Amazon. Non sono difficili da trovare, costeranno sui 5-6€, ma se le usate bene vi durano tanto tanto tempo. In questo caso va bene, un'altra cosa che vi posso consigliare è che quando avevo comprato questo computer qua, tra l'altro non avevo neanche questo case qua, non aveva una ventola e non aveva altre ventole, quindi la dissipazione interna faceva un po' pena. Se avete l'occasione compratevi delle ventole di qualsiasi tipo, tanto per non averle basta qualsiasi tipo di ventole che trovate. Ovviamente studiatevi in base al vostro case, inutile comprare 50 ventole, perché nel vostro case ce ne stanno due. Allora, vado a prendere l'aria compressa e iniziamo prima di tutto a spolverare, perché qua è pieno e ho anche le ventole belle intasate. Allora, io qua ne ho di due marchi diversi, per esempio il fatto che non ho un marchio preferito, quindi quello che trovo compro. Tra l'altro questa qua mi sa che è anche quasi finita, quindi va bene averne due. Allora, possibilmente fatelo all'aperto, io lo faccio qua, mi toccherà pulire, però va bene. Magari togliete già subito tutto quello che ingombra, come ad esempio già la scheda video, per avere un po' più di spazio tecnico di manovra e la possibilità di spolverare un po' di più senza far finire la polvere in altri posti. Sarebbe il caso magari se avete l'occasione e ve la sentite di montare l'intero computer o quasi. Conosco una persona che lo fa una volta a settimana tra un po', ma neanche per pulirlo, ma per sfizio. Comunque, vi ricordate che la bomboletta queste qua mi hanno tenuto triste e vi aiuteranno a preservare il vostro computer nel tempo. Vabbè, questa qua è quasi finita. Va bene, un po' di polvere l'abbiamo tolta, poi magari la passo. Vedete tranquillo, giusto per darvi un'idea, comunque cambia già. Mi raccomando, quando lo fate bene sulle ventole, da entrambi lati, sia da dentro che da fuori. Allora, prima di tutto, una cosa fondamentale per risolvare uno dei componenti che probabilmente sarà uno dei più costosi nel computer, per di solito è così, a parte ormai le schede video che sono diventate una rarità e quindi hanno acquisto valore a prescindere. Il processore ha bisogno comunque di una pasta termica sempre un po' buona per funzionare, quindi ricordatevi di cambiarla spesso, soprattutto perché poi se inizia a seccare avrete anche problemi nel rimuovere in caso il water block o il dissipatore stock, o qualsiasi cosa che sia, quindi vi consiglio, non lasciate passare più di un anno dal vostro cambio della pasta termica. Se lo usate spesso, magari perché fate lunghe sessioni di gioco o in questo periodo qua che fate lunghe sessioni di studio per via della dad, tutto un po', magari potrebbe anche essere il caso accorciare quei tempi, magari da un anno a sei mesi, o otto mesi. Poi io sono sempre un po' dell'idea che più il processore è di fascia alta, quindi c'è il rischio che scaldi di più e più potrebbe essere il caso di cambiargli la pasta termica frequentemente. Per dire avete un i7, un i9, magari potrebbe essere anche il caso che se vedete che le temperature iniziano già ad innalzarsi anche solo di poco, di cambiare la pasta termica, se magari avete un i3 volendo potete anche aspettare un annettino perché tanto quelli lì già di loro dovrebbero scaldare un po' di meno, poi di solito se avete un processore del genere è perché non gli fate un grosso carico, quindi potete anche permettervi di considerarlo un po' meno tra virgolette, poi è sempre meglio accudire il proprio piccino in maniera migliore. Tra l'altro questo era un annettino quindi non è secca ma iniziava ad essere un po' gommosella e si vede, quindi ecco qua il processore è bello pulito, spero che si veda, ovviamente non avete visto quasi niente, va bene. Allora, fatto ciò, pasta termica, un argomento un po' dolente tra virgolette perché ci sono tantissime scuole di pensiero, c'è la X, c'è il chicco di riso, c'è lo zig zag, vabbè poi c'è chi la prende e la spalma con la palettina ma di solito si usa su processori tipo l'Xeon o i3 dripper, l'epic o roba del genere, in questo caso io per un i7 di sesta generazione ormai non mi pongo più il problema, vado direttamente a mettergli un chicco di riso un filino abbondante per essere sicuro che è bassi, soprattutto perché me ne è scappato anche un po' di più. Eventualmente un consiglio, se magari fate parte di un gruppo di amici che hanno tutti i PC gamer e roba del genere, siete magari tutti vicini, un acquisto potrebbe essere prendere i formati più grandi di pasta termica e dividersi la spesa, così da averla una per tutti e poi soprattutto averne in buona quantità. In questo caso quando ho comprato la pasta termica per il mio PC ho fatto fare il giro a tutti i miei amici un giro di pasta termica per i loro processori e alcuni per le loro schede video, così da andare incontro a tutti. In questo caso adesso sto smarmellando la pasta termica comunque perché non gli ho tenuto la plate dietro, messo tutto sì. Consiglio sempre a vitare a croce, cioè incrociato le varie viti del dissipatore. Allora controllate magari che non sia super super stretto perché se no la pasta termica si schiaccia troppo. Per il resto siamo a posto, quindi abbiamo sistemato, tra l'altro è un casino perché comunque arriva da un preassemblato quindi non c'era, molte cose non le aveva. Ecco qua infatti vediamo dei grumi di pad termici perché ho messo i pad termici sulle plate, cioè c'erano già i pad termici sulle plate delle RAM. Ok perfetto quindi vado a rimettergli i banchi di RAM. Comunque come potete vedere ho usato questo qua da 120, chi ha la possibilità magari di un case più grande può andare su un 240 sarebbe la migliore. Sia esteticamente che funzionalmente. Allora qua l'onino ho rispolverato anche un pochettino le varie ventole. Lui di car se è a posto. Abbiamo qua la scheda video che ora mi appresterò a eventualmente sostituire la pasta termica e anche i pad. Più che altro i pad che questa qua non l'ho mai smontata, questa qua è una scheda che usavo su un altro pc. Adesso la mia scheda ce l'ha un mio amico nel suo pc perché ha fatto il pc nuovo. Ma come tutti ben saprete le schede video sono introvabili quindi lui ha la mia Radeon Vega 56. Io smonto tutto e ci vediamo tra poco. Ok allora abbiamo la backplate che è venuta via e qua ha rivelato un pad che c'era. Ok 1 e 1, 2, perfetto. E qua abbiamo il resto che ci ha fatto vedere i pad che c'erano. Quindi qua c'erano già dei pad e la pasta termica. Allora magari questa roba qua. Pasta termica abbastanza, si è tenuta abbastanza ma di una scheda video di per sé se non succede niente di strano. Gli diamo un carico troppo pesante e già più duratura di quello di un processore. I pad però vorrei andare a cambiarli tutti, mi accingo a rimuoverli. In questo caso userò dei pad termici di EKVB da 2 mm di spessore che mi ero comprato per il mio pc. Essendo che mi servivano per l'SSD, mi servivano per la scheda video. Che tra l'altro la scheda video è una 3090. Ha bisogno di veramente tantissimi pad termici. Oddio tantissimi. Avendo 24 giga di VRAM ha già tantissima VRAM. Quindi va dissipata quella, i vari condensatori tutto un po'. La temperatura effettivamente rimane un po' caldina. In questo caso ne ha avanzato un pochettino. Che mi dà la possibilità di utilizzarli in questo caso per questo. D'altro, wow, questi pad termici qua vanno via che è una meraviglia. Quelli della 3090 ho dovuto scrostarli che si spaccavano ogni 5 secondi. Perfetto, siamo qua, tutto abbastanza pulitino. Andiamo a rimuovere anche quello posteriore. Ok, questo si scrosta già. Ok, questo era già più secco. Qua abbiamo il mio bellissimo sacchettino di pad termici. Questi sono presso che tutti da 2 mm. Sì, se lo ritaglio bene, posso ricavare un po' di roba da questi scarti qua. Anche qua, se c'hanno questa parte qua di dissipazione così in blocco, è buona cosa. Dagli una bella spolverata. Infatti qua sta tirando proprio i grumi di polvere. Ok, abbiamo tolto un po' di... Mamma mia, questa roba. Non lo chiudo ancora, voglio solo vedere come va con la compressione. Se si va a spalmare poi la pasta termica. No, quindi in caso sprecaremo un po' di pasta termica per verificare questa cosa. Ok, è passato un giorno. È passato un giorno perché purtroppo la pasta termica, i pad termici, scusate, che avevo messo erano 2 mm. Ahimè, 2 mm, non gli vanno bene. Verificate sempre. Io ho sbagliato perché ho dato per scontato che avesse... Se aveva i pad termici, avesse abbastanza spazio per un qualsiasi tipo di pad termici. Non è sempre così. Di solito nelle schede di fascia un po' più alta hanno più spazio appunto perché di solito se sono di fascia più alta scaldano anche di più. E quindi sono andato su Amazon, ho comprato i primi pad termici che arrivavano. Dovrebbe essere questo qua. Ah, ok. Ogni sacchettino ho preso un pack che aveva un millimetro, un millimetro e mezzo, 0,5. Ecco, qua c'aveva gli 0,5, sicuro. A questo punto allora io utilizzo solo gli 0,5. Sono un po' deluso, avrei voluto mettere qualcosa di meglio ma... Ahimè, se la vi. Quindi magari se avete la possibilità di avere un Amazon Prime che in un giorno vi farà consegna, magari quando sapete che potete anche fare a meno di usare il vostro computer per mezza giornata, vi mettete lì, smontate la scheda video, guardate i pad termici, quelli che ci stanno e comprate i primi che arrivano con Amazon Prime. o se volete fare le cose per bene comprate quelli di marca un po' più alta ma che vi arriveranno magari dopo qualche giorno. Dipende sempre anche da Amazon perché comunque bene o male tutti, quasi tutti o tutti i pad termici di marca li trovate benissimo su Amazon, non fatevi problemi. Metto a ritagliare i pad da un... no, 0,5. I pad da 0,5, che questi qua non dovrebbero darmi alcun problema, alcun tipo di problema. Allora, quelli da 0,5 mi sembrano proprio penso i pad più inutili di tutti, soprattutto perché tra l'altro non esistono pad più sottili e ovviamente io devo dire che sembra quasi di non averli in mano, è un pochettino tanto una delusione e niente, quindi adesso mi appropinquo a mettere tutti i pad, tanto questi qua sono da 0,5 posso anche metterli in un filino più larghi, non è... ho visto che tanto la superficie di appoggio è uguale per te, è uguale a prescindere, quindi tanto vale che sto un filino più abbondante ai lati così sono sicuro di coprire bene tutto. Adesso devo mettermi ancora a togliere tutto... ok allora vado a rimuovere tutti questi vecchi... c'erano le scalanature, sono un pompierla perché potevo metterlo direttamente qua sulle scalanature. ok quindi vado ora a rimuovere le varie plastichine... ok tra l'altro questi pad termici qua non hanno un loro lato adesivo, cioè un leggermente più adesivo rispetto agli altri pad che sono abbiato a utilizzare, quindi questo fa sì che quando provo a togliergli la pellicola mi rimanga l'intero pad in mano, soprattutto a piccoli così. Quindi in questo caso io vi lascio in descrizione questi qua che ho comprato, ma voi se li ho comprate munitevi di tantissima sacrosanta pazienza e quando dico tantissimo intendo un botto. ok allora è stato abbastanza posto però ce l'ho fatta adesso. Passa termica e si ritappa così poi metto ancora il pad sopra e via e passa la paura. Perfetto ne ho messo un po' troppo perché mi è scappata ma pazienza. vado ad accingermi anche a rimettergli la plate superiore che in questo caso si va a mettere per così. adesso devo cercare di rimettere i connettori che sono uno schifo. ok un dato adesso mettiamo anche il secondo ok peru perfetto allora ora rimuniamoci di cacciavitino mi raccomando segnatevi sempre le viti quindi quel cuo mi va già bene perché sono di colori differenti quelle direttamente del pezzo che va contattato con la GPU con le altre che tengono insieme solo gli altri componenti quindi anche qua per sicurezza si va sempre a stringere la croce e non si stringe proprio del tutto quando vedete che inizia a fare un filo di resistenza siamo già a posto le altre stringetele pure fin che vanno quindi io finisco di avvitare richiudo il computer e ci vediamo tra poco eccoci qua siamo arrivati alla fine il mio computer è di nuovo intero spolverato di sicuro più performante perché comunque ha perso almeno 2 kg di polvere varie ha avuto tutte le paste termiche nuove i pad termici quindi comunque dissipazione calore e mentre sono più sgombra avevo il filtro dell'aria posteriore cioè non posteriore inferiore non intasato di più quindi c'è voluta una bella pulita non vi sto a far vedere le prestazioni perché comunque è un computer che di per sé scalda abbastanza perché comunque sono componenti non super performanti già un pochettino datati quindi meno ottimizzati per le varie cose di temperature però in caso qualsiasi domanda qualsiasi richiesta qualsiasi osservazione qualsiasi consiglio che io magari non ho dato ci sono i commenti per chi ne sa già di più mi ha incappato in questo video se ho dimenticato qualcosa o se secondo voi c'è altro da fare a prescindere commentino così aiutate sia me ad acculturarmi di più che altra gente che magari ha finito questo video per capire magari qualche principiante e quindi ha l'occasione anche di finire a fare un lavoro migliore dopo i miei consigli se volete stavo pensando anche un video su come personalizzare un computer del genere modifiche estetiche a un computer del genere per dire che magari ancora i cavi stop dell'alimentatore non aveva il dissipatore acqua da nascondere cose del genere commentino vedrò di trovare un po' di accessori vari da proporvi fare un bel video modificare magari proprio su questo computer qua e pubblicarvi il video io vi ringrazio per aver visto questo video trovate in descrizione instagram twitch telegram che non uso da una vita discord se volete parlare con me c'è il mio discord in descrizione è aperto tutti non richiede iscrizioni non richiede niente basta che loggate su discord col vostro account e aprite il link in descrizione grazie a tutti ci vediamo in un prossimo video che probabilmente sarà quello del pc ciao ciao